Sarà Federico Fornaro l'unico parlamentare piemontese a capo di una formazione politica eletta in Parlamento. A Montecitorio il gruppo misto formato da 36 deputati ha infatti votato all'unanimità come suo presidente l'esponente di Liberi e Uguali. Il suo partito, Leo, guidato alle ultime elezioni dall'ex presidente del Senato Pietro Grasso, ha infatti raggiunto il quorum necessario per entrare alla Camera, ma è riuscito ad eleggere solo 14 deputati che non sono sufficienti a formare un gruppo autonomo. Prassi parlamentare vuole che un partito uscito dalle urne con il proprio simbolo possa formare un gruppo autonomo, ma per questo ci vorrà tempo ed ora Fornaro resta presidente del gruppo misto che con i suoi 36 deputati sarà ricevuto come rappresentante del gruppo misto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Nel gruppo misto, capitanato dal piemontese, eletto nella circoscrizione di Alessandria, ci sono 14 rappresentanti di Liberi e Uguali, 5 ex 5 Stelle fuoriusciti dal Movimento, 4 di Noi con l'Italia, 4 delle minoranze linguistiche, 3 di più Europa, 2 di insieme, 2 di civica popolare e 2 rappresentanti eletti all'estero, uno del Movimento italiano all'estero e l'altro dell'Unione sudamericana emigrati italiani. Al termine dell'elezione Fornaro si è detto meravigliato e onorato di ricoprire tale incarico.